45 anni di Monte Calvo Irpino, arrestato per tentato omicidio, l'uomo durante una lite con il fratello ha colpito al volto un ventenne con una mannaia da macellaio. I carabinieri ieri pomeriggio sono intervenuti nel centro del paese dove rinatta una furiosa lite in strada tra fratelli. Allora arriva militari hanno soccorso il ventenne che era a terra sanguinante per una profonda ferita al volto. Avviate le indagini per ricostruire i fatti, i carabinieri hanno accertato che il giovane che stava assistendo alla furibonda lite tra fratelli aveva commesso l'errore di avvicinarsi ai due litiganti, uno dei quali, il 45enne che è stato arrestato, lo ha colpito con la mannaia provocandogli una grave ferita. Trasportato immediatamente all'ospedale di Ariano, il ventenne è stato medicato e giudicato guaribile in 20 giorni. Recuperata e sequestrata la mannaia, i carabinieri, dopo aver ricostruito l'esatta dinamica dei fatti, hanno arrestato il 45enne con la grave accusa di tentato omicidio.